Como culla del grande ciclismo, dopo la partecipazione al Giro di Lombardia e la conquista del secondo posto con Vincenzo Nibali, il team Bahrain Merida ha scelto proprio l'Ario per il ritiro di programmazione della prossima stagione. Abbiamo tanti corridori che usano queste strade per allenimento, abbiamo Vincenzo Nibali che abita a Lugano, Pozzaviva a Lugano, Gasparotto a Lugano, allora è vicino, è comodo e ripeto dopo Lombardia era facile a fare questo ritiro. Abbiamo un accordo anche con i comuni di Como per dare l'appoggio su vari eventi. Durante l'incontro con i giornalisti Nibali ha tracciato un bilancio della stagione 2018 e ha parlato del suo legame con il territorio comasco. È un rapporto molto bello perché essendo anche una grande città capita spesso di fare anche una passeggiata, magari con la famiglia anche per fare qualche acquisto e invece cillisticamente parlando per affrontare qualche salita nella zona del Comasco e quindi è bello perché sono anche le strade un po' del Lombardia, è un percorso che conosco ormai benissimo e qui trovo anche tantissimi tifosi. Quali sono i tuoi percorsi preferiti? Capita non di lato magari di passare dalla Valle d'Intelvi perché poi scendendo giù a Porlezza rientro verso casa. Il campione ha commentato il recente risultato dei Lombardia. Sicuramente come team abbiamo cercato di dare il massimo per cercare di ottenere la vittoria. È chiaro che questa è sfuggita per poco ma sulla strada ho trovato veramente un tipo Pinot molto forte in condizione e l'aveva dimostrato anche i suoi recenti successi alla Milano Torino e il secondo posto alla Trevalli Varesina. Una tappa del prossimo Giro d'Italia potrebbe essere proprio a Como. I rumors si sentono quindi spero magari che ci sia perché è un percorso molto bello poi al di là anche della presenza questo lo valuteremo successivamente perché bisogna valutare anche come sarà l'intero Giro d'Italia e come sarà il suo percorso nel contesto.